Ehi ma ve li ricordate gli anni 80? Perché se ci fate caso ne parlano sempre tutti molto molto bene, sicuramente anche legato al fatto che sono uscite tantissime canzoni bellissime, però ragazzi sono uscite anche tantissimi film spettacolari, di fatti tratterò 5 film anni 80 che non potete perdervi, l'ultimo è il mio preferito quindi se me lo toccate mi arrabberò moltissimo. Ciao sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e azione! Dunque in questa lista non poteva mancare Igunis del 1985, tratta un genere di avventura e commedia. Qui un gruppo di ragazzini, chiamati appunto Igunis, scopre casualmente la mappa di un tesoro, decidono così di seguirla in un vero e proprio labirinto di grotte sotterranee e dopo aver superato mille ostacoli arrivano finalmente a favoloso tesoro. Mi ricordo di averlo visto da bambino e di essere stato anche a tratti traumatizzato perché c'è una creatura che si chiama Slot, un uomo che appare verso la fine del film con la maglietta di Superman che poi diventa amico dei ragazzi, che praticamente mi ha sconvolto all'adolescenza, all'infanzia ed è stata veramente tanta roba. Comunque bisogna anche far notare che molti film e serie prendono un po' ispirazione da questa pellicola, come ad esempio E.T. Telefono Casa, Stranger Things oppure appunto i film di It. Proseguendo non può mancare Shining, pellicola del 1980 a tema horror che tratta le vicende del libro di Stephen King. Qui lo scrittore Jack Torrance accetta, assieme alla moglie Wendy e al figlioletto Danny, di fare da custode invernale ad un hotel deserto, l'Overlook Hotel, dove nove anni prima un suo predecessore era impazzito ed aveva sterminato tutta la famiglia. L'hotel è attraversato e abitato da strane presenze e in esso le leggi spazio-temporali sembrano sovvertite. L'isolamento, sommato al fallimento letterario, muta il comportamento di Jack che inizia a dare dei segni di squilibrio. E questo rimarrà per sempre un grandissimo cult, quindi se siete amanti dell'attore Jack Nicholson qui lo vedrete proprio in una maniera molto squilibrata. E ora passiamo a un capolavoro di Spielberg, ovvero Ettyle extraterrestre del 1982, dove durante un sopralluogo sulla terra per accogliere vegetali, un gruppo di alieni viene sorpreso e uno di loro viene lasciato erroneamente al suolo per l'affrettato decollo. L'alieno, solo e smarrito, viene trovato e ospitato da Elliot, con la complicità della sorellina Gertie e il fratello maggiore Michael. Tra i due si instaura un profondo rapporto di amicizia che li lega anche a livello emotivo. Desideroso di tornare a casa, l'alieno costruisce un rudimentale dispositivo di comunicazione per chiedere aiuto ai suoi. Gradualmente la salute di Etty peggiora e la situazione è aggravata dall'irruzione dell'universo dei ragazzi da parte del mondo degli adulti, che vuole impossessarsi dell'alieno. Difatti potete solo immaginare cosa sarebbe successo negli anni Ottanta se il mondo avesse proprio scoperto l'esistenza di un alieno vero e proprio. Al mondo d'oggi non so veramente se la cosa potrebbe essere così, così assurda, ma in quegli anni secondo me avrebbe fatto molto più scalpore. E rimanendo in tema fantascienza, nel 1980 abbiamo L'impero colpisce ancora, secondo capitolo della saga di Star Wars uscito in quegli anni, dove vediamo il nostro Darth Fener e l'esercito imperiale che attaccano la base ribelle sul pianeta di Hort e la distruggono. Ian Solo, la principessa Leia e il droide D3BO fuggono verso il Cloud City, mentre Luke, assieme al Fido C1P8, si reca dal maestro Jedi Yoda per farsi guidare alle vie della forza. Diciamo che il nostro George Lucas ha praticamente sorpreso tutti con la saga di Star Wars, che ha aperto le porte a un mondo molto più espansivo dopo il pianeta Terra. Un mondo pieno di creature fantastiche, pieno di esseri fantastici, con poteri fantastici, che ci ha dato moltissime, ma moltissime gioie. E questo secondo capitolo, che viene definito il migliore della saga, per quanto riguarda la regia, la storia, i personaggi e tutto il resto, rimarrà per sempre alla storia come uno dei capitoli di Star Wars migliori di sempre. Assieme a Rogue One, uscito negli anni un po' più recenti, però comunque diciamo che per gli anni in cui è uscito questo film non c'era nessuno che poteva renderli pari. E infine, nel 1985, arriva il bellissimo Ritorno al Futuro, sempre di fantascienza, diretto da Zemeckis. Qui vediamo un ragazzo di nome Marty McFly, che è stato catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più carburante per poter tornare nel futuro, si rivolge alla versione più giovane di Doc, che nonostante l'incredulità iniziale si farà in quattro per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane, Marty infatti si imbatte casualmente nei suoi genitori, all'epoca teenager, ma all'incontro aggiungerà altri problemi. E questo è stato forse il primo film, che poi è diventata una trilogia, che ha dato il via al viaggio nel tempo, da cui si sono ispirati moltissimi, ma moltissimi altri film e serie, tutt'ora anche su Netflix ci sono delle miniserie che trattano appunto il viaggio nel tempo. Che diciamo che il ritorno al futuro, a livello nostalgico, è qualcosa di... non si può spiegare, perché ci ha dato tutte cose che ci rimangano nel cuore, tutte, e rimarrà per sempre una delle mie trilogie preferite. Perché qui si ha amore, gioia, tristezza, dolore, ci sa pressione, perché tu sai che sei in un'altra linea temporale, devi risolvere tutto, se no quella che vivi tutti i giorni non esisterà più. E la cosa veramente, soprattutto in quegli anni, ha lasciato tutti a bocca aperta. Ripeto, questa trilogia batte qualsiasi altro film o serie che tratta il viaggio nel tempo, ve lo posso assicurare. E in più, ragazzi, ci regala anche un pizzico di commedia, grazie agli attori che lo interpretano. Mi dispiace per Michael J. Fox, che il Parkinson lo sta un po' devastando, però ragazzi, guardatevela se l'avete persa, perché non merita, merita tantissimo, ma tantissimo. Io comunque, ragazzi, sono arrivato alla conclusione di questo video, spero che abbiate apprezzato questi miei 5 film che non potete perdervi degli anni 80 e che comunque vi abbia fatto venire la voglia di andarli a vedere. Vi chiedo comunque di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. e da CaptainNerd vi oggi è tutto, noi ci vediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!